Buonasera a tutti, come ormai sapete i giornalisti non sono presenti in sala, hanno inviato le domande all'ufficio stampo e due colleghi di Roma Radio e Roma TV ci aiuteranno a porgerle a mister Fonseca, invece presente in sala l'inviato di Sky, Angelo Mangiante, a cui lasciamo la parola che mi inizia la buona partenza. Buongiorno. Buongiorno. Domani una partita molto delicata dopo la sconfitta contro lo Spezia e i tanti malumori che circolano in queste ore. Le chiedo come arriva lo spogliatoio e i giocatori a questa partita e se in ballo c'è anche il suo futuro nei prossimi 90 minuti sulla panchina della Roma. Io ho sempre sentito l'appoggio del Presidente. In tutti questi tempi che sono qui come Presidente ho sentito sempre l'appoggio del Presidente. Anche oggi abbiamo parlato e oggi ho sentito di nuovo, come sempre, l'appoggio del Presidente. Per me questa non è una questione. Volevo trattare con lei, se possibile, la questione invece di Dzeko. Vuole sapere se domani punterà su Dzeko titolare o se c'è qualcosa che non va con Dzeko. Se può aiutarci a fare chiarezza intorno a Dzeko e anche intorno al suo rapporto con il giocatore. Sfortunatamente abbiamo qualche problema con il giocatore nella squadra. Pedro non sta bene, Mkhitaryan sta in dubbio e Dzeko ha avuto una contusione nella partita. e adesso, ieri, ha sentito un fastidio e non sarà pronto per la partita. Non ha più a dire, Dzeko non può giocare. Io sono concentrato nella partita per domani. Devo focarmi nel giocatore che sono pronti per la partita di domani. Eccoci mister, le leggo due domande di due testate diverse sullo stesso argomento. Prima il tempo, come è possibile che in uno staff di una squadra di livello della Roma non ci fosse una sola persona che conoscesse il regolamento sulle sostituzioni? Lei non lo pretende dal suo vice e dai suoi collaboratori? La Gazzetta dello Sport invece le chiede. Non crede che un allenatore debba sapere il regolamento del paese in cui allena? Sì, è vero. Dobbiamo tutti sapere le regole. Il problema è che le regole sono sempre cambiando, tutti gli anni cambiano. E abbiamo altre competizioni in cui questo è possibile fare. Ma è vero, io non voglio scappare dalla mia responsabilità. Ma penso che adesso è tempo di pensare nella partita con Spezia. Anche Corriere della Sera e Teleradio Stereo fanno una domanda sullo stesso tema. Il Corriere della Sera chiede se conferma o smentisce le voci sul dopo partita contro lo Spezia. Teleradio Stereo le chiede se può raccontare cosa è successo dall'entrata nel tunnel degli spogliatoi in poi con Dzeko. Io sono qui un anno e mezzo e io conosco come funzionano le cose. Quando non vinciamo, che si possa dire male di una squadra arriva qui. Ma devo dire una cosa, io non voglio contribuire per questa speculazione. Corriere dello Sport, sente che la squadra è ancora dalla sua parte? Sì, sento. E Lanza le chiede, alla luce dei recenti avvenimenti, se si rendesse conto che la squadra non la segue più. Sarebbe disposto o pronto a dimettersi? Questo è un progetto nuovo, è un progetto che ha un Presidente nuovo e che con il tempo sorge un problema e difficoltà. Ma noi dobbiamo crescere con questa difficoltà. Ma devo dire più una cosa, io non sono il tipo di persona che si arrenda. Il Romanista, rivedere la punizione di Ricci per piccoli che è costata l'espulsione di Paul Lopez fa ancora male. La difesa aveva tutto il tempo per sistemarsi anche a quattro, ma la linea è troppo alta e i giocatori non hanno la corretta postura. Secondo lei, certi errori da che dipendono? Sono situazioni provate poco in allenamento o sbagliate interpretazioni dei giocatori in campo? In calcio se non abbiamo errore non abbiamo gol. In tutti i partiti ci sono gol e ci sono errori. Quello che è importante dire è che noi analizziamo sempre quello che facciamo e lavoriamo tutti i giorni in Trigoria per migliorare quello che noi abbiamo fatto bene. Domanda da parte di Leggo. Mancano ormai dieci giorni alla fine del mercato. Pinto e la società stanno seguendo i profili che lei ha indicato? In che percentuale è coinvolto in queste dinamiche? Come ho detto sempre, stiamo lavorando tutti insieme, io, Pinto, Presidente, Ryan, per cercare le migliori soluzioni per aiutare la squadra. Rete Sport, come stanno Pedro e Mkhitaryan? Come ho detto, Pedro, non puoi giocare. Mkhitaryan, proviamo oggi. Abbiamo questo dubbio. Vediamo domani come sarà l'allenamento per decidere se puoi giocare domani. Domanda di Centrosuono Sport. Negli ultimi tempi le viene imputato di non riuscire a leggere la partita in corso d'opera quando la sua strategia viene capita dagli avversari. Le chiede cosa risponde a questo e quanta responsabilità hanno i suoi giocatori nel non riuscire a cambiare passo nei momenti difficili? Quando vinciamo non c'è nessun problema. Quando perdiamo è normale che si parli di questo tipo di questioni. Devo dire che ogni partita è diversa. Io devo capire quello che succede nel momento e devo decidere. Ma devo dire che io sbaglio come tutti gli altri sbagliano. Domanda nostra da parte di Roma TV, mister. Lei prima parlava anche delle condizioni fisiche di Dzeko. Allora le chiedo di Borja Majoral. Ha ricevuto un po' di critiche dopo la partita contro lo Spezia. Come lo ha visto invece in questi giorni? Bene, bene. Devo dire più. Borja Majoral ha fatto una grande partita per me, come ha fatto contro Crotone. Ha creato molto, ha partecipato nel gol, ha avuto molte opportunità. È vero che ha sbagliato. È il momento di fare il gol, ma non possiamo dimenticare che è un giovane e che per me quello che è più importante è sentire che sta lavorando bene per la squadra e che il gol viene dopo con naturalità. Domanda di Roma Radio. Che Spezia si aspetta di trovare domani all'Olimpico? Come l'altra partita sarà una partita molto difficile. Spezia è una squadra con una identità propria e penso che non cambierà le intenzioni perché sarà sicuramente una partita difficile, una partita in cui affrontiamo una squadra che vuole avere la palla, ma noi stiamo preparando la partita per poter vincere domani. Grazie. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie.